Carissimi amici siamo sempre qui in Riva al Mare, qui con Deborah, la nostra amica di insieme a te. Ciao Deborah. Ciao Tiziana, ciao a tutti. Allora mi chiedevo, tutti questi meravigliosi ospiti che vengono qui, che mi hai detto che vengono un po' da tutte le parti d'Italia, ma poi come fanno ad arrivare? Perché comunque il treno è lontano, siamo a Punta Marina, una città di mare, e comunque parliamo di ospiti con disabilità. Esatto, allora i più vengono con i loro mezzi, chi riesce, che magari ha distanze un po' più brevi, oppure chi è veramente molto lontano prende il suo treno in Preccia Rossa, un'ora e mezza sono a Bologna e noi dopo, con la collaborazione che abbiamo con la pubblica assistenza, le andiamo a prendere da Bologna e poi le portiamo qua al mare. Quindi c'è tutta una serie di servizi già pronti, già organizzati. Noi i nostri ospiti da Bologna spesso le andiamo a prendere, soprattutto chi viene da Milano, da Torino. Sono fantastici perché, immaginate comunque una persona anche tracatomizzata che percorre il suo tratto in treno, arriva qua, prende il suo pulmino, poi viene fino qua insieme a te. È meraviglioso questa cosa qui, sì davvero, perché queste famiglie sono disposte veramente a fare di tutto pur di vivere una settimana al mare. Però sono ospiti che sono venuti la prima volta e poi sono tornati. Sì, la cosa bella è che tornano tutti. Noi abbiamo veramente gli ospiti del 2018 che tornano ancora e state 2020 ritornano. Quindi la cosa bellissima è proprio questa, che c'è un ritorno e noi questo riempie il cuore, perché vuol dire che si sono trovati bene. Per noi capire se la cosa ha funzionato bene, questa è una dimostrazione. Quindi rivederli, fare di nuovo gruppo, stare di nuovo insieme, questa è la cosa bella. Perché poi esatto, si crea questo rapporto di amicizia e un anno per l'altro, se anche i volontari si ripropongono e sono sempre quelli, si crea proprio una grande famiglia. Una grande famiglia, quello che io sottolineo sempre, una grande famiglia, con tutte le difficoltà che ci sono anche nelle grandi famiglie. Beh certo, non sarà sicuramente tutto rosa e fiori perché succede poi così, no? Sì, sì, nel senso che noi ci proviamo comunque a rendere sempre tutto più leggero possibile per i volontari e per i nostri ospiti. Certo, quello che noi ce la mettiamo tutta quella su serio. Quindi vedete quante collaborazioni nascono intorno ad un'associazione, a parte i volontari, a parte chi viene a fare animazione, a parte gli ospiti che vengono. Ci sono chi ha prestato i loro alloggi, la pubblica assistenza, chi viene a prendere le persone, gli ospiti dai treni a Bologna e li porta fino qui, lungo il percorso. Quindi c'è proprio un'aggregazione, si crea un mondo. Sì, certo. Insieme a te si sostiene grazie comunque alle donazioni. Le donazioni delle tante associazioni che comunque collaborano con noi. E la cosa meravigliosa è che veramente noi non chiediamo nulla e le persone ci chiamano chiedendo di donare per questo progetto. Questa è una cosa meravigliosa perché è veramente, dalla macelleria alla sonumeria alla farmacia, sono tutte persone che hanno voglia di dare qualcosa per questo progetto. Perché Riva Disco si sostiene solo su donazioni e credetemi è un progetto che costa tantissimo. Ah, ci credo. E quindi... Anche perché parlavamo, chi magari gli amici da casa che ci seguono non hanno visto tutti gli appuntamenti con te, si parla di una spiaggia al mare attrezzata per persone con disabilità. Quindi anche tutti gli ausili, questi lettini, questi box per dare intimità a queste persone che comunque devono cambiarsi, si devono svolgere le loro attività, insomma che la patologia richiede, non sono cose semplici, insomma, sono cose dispendiose, sono ausili... Assolutamente sì, che hanno comunque tutto donati, ma anche il progetto in se stesso, nel senso nel montare e smontare, comunque richiede una spesa abbastanza onerosa. Sì, anche perché, esatto, quello che avete visto dalle foto che scorrono, la cosa bella è che qui vedete una spiaggia vuota, ma il 13 di giugno, che aprirà, quindi il mese prima, ci sarà un sacco di lavori e montano, montano proprio tutta la struttura, questo bellissimo bagno bianco, blu e rosso, i colori di Insieme a Te, e quindi è un aiuto corale, una solidarietà corale, perché proprio dall'inizio, dal montaggio della struttura, ci sono un sacco di persone che gravitano attorno a Insieme. Assolutamente sì, siamo veramente tantissimi e questo ci rende orgogliosi, perché non siamo due, non siamo tre, ma siamo veramente tantissimi. Allora, io vi ricordo che siamo a punta Marina Terme, quindi se volete pensare di prenotare, ma non soltanto come ospiti, perché non è detto che dobbiate venire qui come ospiti, quindi ve lo auguro, vuol dire che non avete patologie di nessun tipo in casa, ma semplicemente per venire a respirare una boccata d'aria fresca qui in Riva al Mare e magari regalare un'ora del vostro tempo qui, come volontario, venite perché è una bellissima aria che si respira. Qui insieme a te cercate l'associazione sul sito www.insiemeate.org perché davvero si può, diciamo così, dare in tantissimi modi diversi. Grazie Deborah, ma sarà ancora con noi nelle prossime puntate, sempre per regalarci un po' di sé. Grazie a voi.